Buongiorno e benvenuti alle nostre breaking news, la politica, insediamento ufficiale questa mattina per la rieletta sindaco di Montevarchi Silvia Cassai Martini, nessuna indiscrezione sulla nuova giunta, il sindaco ha fatto presente, ha illustrato un po' quelli che saranno i primi obiettivi del suo nuovo mandato, tra i quali per esempio diversi interventi nell'ambito dei lavori pubblici. La cronaca giudiziaria, ripreso il dibattimento per il filone consulenze d'oro relativo al crack Etruria stamani al Tribunale di Arezzo, l'udienza ha conosciuto una sorpresa, la richiesta presentata dai legali di Ubi Intesa. Campagna di vaccinazione anti-influenzale, dal 25 ottobre inizia in Toscana la campagna di vaccinazione contro l'influenza, ci sono varie modalità per questa campagna di vaccinazione che sono state illustrate anche ampiamente durante un incontro che si è svolto presso la regione toscana. Il 25 ottobre i medici di famiglia ovviamente avranno un ruolo significativo perché saranno anche in grado oltretutto di dare le informazioni necessarie per garantire a tutti anche la campagna e il vaccino contro l'influenza. Queste erano le nostre breaking news.